Giovanna e Guido Bertero, benvenuti. Come nasce l'amore per la fotografia? Nasce casualmente, nulla ci ha preso quanto la fotografia. Il bello nostro di questa collezione è che abbiamo avuto a modo ancora per parecchi anni di poter andare nelle case dei fotografi e scegliere le foto. Che cos'è per voi la bella fotografia, Giovanna? È quella che ti affascina e ti prende subito. Questa è una foto stupenda, si chiama alfabeto muto, il titolo di questa foto. E lui evidentemente non si capisce se stia leggendo o scrivendo, ma lui ha scritto delle frasi. Dietro ogni fotografia c'è una storia, una storia di amicizia o di litigio, di discussione, di risate. La fotografia italiana non ha nulla da invidiare con la fotografia mondiale. Grazie della vostra preziosissima testimonianza, grazie a Giovanna e a Guido Bertero. In bocca al lupo per l'avvenire della collezione. Siamo state insieme da sempre, eravate veramente piccoli. Siamo sempre insieme.